PEGI 12 Nelle pericolose vie di New York, Chicago Che cosa diavolo succede? La ragazza ha visto quello che è successo Inizia un inseguimento implacabile Non andate! Non c'è tempo, Gina. Fidati di me e basta Coast to coast degli Stati Uniti Un bottino di 20 milioni di dollari è in gioco Rischio La vita di Gina è in pericolo Presto o tardi, mi troveranno e per me sarà la fine Misteri Il nostro tempo sta per scadere Cosa faremo adesso? Ambizione Forse è qui che si trova Bernard Tradiretti Spocchi assassini Giro Che cosa sta succedendo? Al limite No! Runaway Runaway Grazie a tutti! Runaway Grazie a tutti! Runaway